Allora ragazzi, buongiorno a tutti. Ieri è successo di tutto nella partita Genoa-Juventus, di tutto e di più. Parliamo prima della parte arbitrale, ovviamente, poi parliamo ovviamente di tutto quello che riguarda quello che è successo sul campo tra le squadre, a livello tecnico e tattico. Allora, all'arbitro massa combina un disastro. Combina un disastro durante una partita che comunque è importante perché è la seconda in classifica la Juventus e comunque anche per il Genoa è importante, ovviamente. Detto questo ho spiegato ampiamente sugli altri miei social da ieri sera perché secondo me quello a favore della Juventus è rigore tutta la vita. E soprattutto il fallo di Malinoski e espulsione a due minuti dalla fine mancava pochissimo, oltretutto tutta la vita. Allora, il discorso del fallo del giocatore del Genoa col braccio, molti di voi si sono lamentati e mi hanno detto, mi hanno scritto in privato, insomma mi hanno detto no ma non è mai rigore, quello per regolamento non è mai rigore e vi spiego perché invece quello è il rigore. Allora, dite molto spesso, avete detto, ah se tocca un altro alto e poi tocca il braccio non è mai rigore. No, non è proprio così ragazzi, non è proprio così e ve lo spiego. E ve lo metto anche qui per iscritto. Ve lo spiego a modo mio ma qui c'è scritto a caratteri cubitali, insomma il regolamento, preso proprio dal regolamento, quello che poi ovviamente le discrezioni arbitrali sono anche motivo di lamentele e polemiche continue, quello è chiaro. Detto questo, allora se io tocco la palla, se la palla mi sbatte sulla gamba o sul petto, però poi va a prendere il braccio ed il braccio è chiuso così, o la mano anche se è così, però è chiuso, è attaccato al corpo, non fa volume, quello non è mai rigore, ok? Nel momento in cui tu prendi un altro alto e poi prendi il braccio largo così, cioè proprio così, che cambia completamente la traiettoria della palla, poi stanno girando anche delle immagini fake dove il giocatore del Genoa non tocca completamente la palla, ma così non è ragazzi, perché dalle immagini chiare e vere e reali si vede che il giocatore tocca la palla e non solo tocca la palla, ma cambia completamente la traiettoria. Siccome io sono onestissima a livello intellettuale, onestissima intellettualmente, e quindi è giusto anche dirlo. Il fallo su Molinoschi io penso che non ci sia né da fare discussioni, né da creare alibi o da fare, era espulsione, stop. Come è stata espulsione quella di Lukaku nella passata giornata di campionato, questa è sacrosanta espulsione anche questa. Detto questo però c'è un qualcosa che non mi è piaciuto affatto, e cioè che c'era un rigore enorme anche di cambiasso su un giocatore del Genoa in aria, che ora ricordo il nome di questo giocatore, non fatto vedere da nessuna televisione, non fatto vedere né da Sky, né da Zone. Da Sky non lo so perché non l'ho visto, attenzione, però da Zone sicuramente non l'ho fatto vedere, non ha replicato neanche Marelli sulla questione delle moviole, non c'è stato assolutamente neanche dopo la partita un solo filmato che abbia fatto vedere il rigore netto di cambiasso sul giocatore del Genoa. Quindi per me Massa ha fatto un disastro e la terra arbitrale, il VAR, ha fatto un disastro totale della partita, perché ha creato polemiche, quando una partita poteva finire tranquillamente a pareggio, poteva finire in pareggio, scusate, in pareggio tranquillamente, senza bisogno di polemiche ulteriori, perché poi che cosa si fa? Si va a creare assio tra le tifoserie, i tifosi si scannano, senza motivo oltretutto, e poi succede il marasma, e poi con chi se la prendono? Con l'Inter, che non c'entra un cavolo, cioè con l'Inter, ah è perché voi vi state preparando il piano, oltretutto mi sono sentita attaccata anche da persone dicendo, ah anche un interista doc ci dà ragione, dice che... No, no, io non do ragione a nessuno, io sono per le cose corrette, per le cose obiettive, per le cose giuste, se a me non danno un rigore del genere, io divento una pazza, se all'Inter non fischiano un rigore del genere, io faccio la pazza, e questo vale sia per quanto gioca l'Inter, che per quanto gioca la Juve, che per quanto gioca il Milan, che per quanto gioca la Lazio, il Bologna, la Roma, il Napoli, tutte, tutte, sono stata sempre onesta, ogni volta che ho parlato di qualche episodio, e ditemi se non è bene, ditemi il contrario, ho sempre, mi sono sempre attenuta al regolamento, sono andata a studiarmelo, a cercare i vari motivi per i quali non sono state fischiate determinate cose, anche su Napoli e Inter, le cose che non sono state fischiate sono state motivate, sono state motivate, io personalmente apri fischiato fallo, di Lautaro, ma poi quando leggo il regolamento, mi rendo conto, sinceramente, che ha ragione a 360 gradi, e non perché stiamo parlando di Lautaro e dell'Inter, su Osimen, ripeto e ribadisco, che non è il rigore mai, ma mai, ma neanche se è proprio un impegno, perché allora dobbiamo dare 20 rigori a partita, e non esiste al mondo, perché è uno che sfiora appena il tendine dell'altra persona, cioè non puoi dare il rigore, bisogna vedere anche l'entità del danno, no? Del rigore. Detto questo, ragazzi, io penso di essere stata abbastanza, sinceramente, obiettiva, penso di essere stata abbastanza onesta, mi ricordo anche, inoltre vi ricordo, che tutti gli juventini, compresi i dirigenti, gli allenatori, i presidenti, dicevano che l'arbitro fosse l'alibi dei perdenti. Ma così vi rendete conto anche voi, che non è l'alibi dei perdenti, ma che è giusto, ovviamente, difendere i propri diritti. Tutto qua, questo, come la Juve, ieri sera, ha dovuto difendere i propri diritti, anche il Genova ha dovuto difendere i propri diritti, e anche gli interisti per 30 anni, forse pure più, hanno difeso i loro diritti, come li difenderanno gli altri delle altre squadre, ovviamente, e penso che sia giusto così, perché allora, se no, ragazzi, la tifoseria, togliamola, non esiste, e parliamo soltanto di calcio, con gli occhi, con i paraocchi, come i cavalli, non siamo per niente tifosi, ragazzi, non funziona così, si è tifosi, ma bisogna essere obiettivi nella vita. Detto questo, volevo terminare il mio video, con un saluto particolare, una persona che l'anno scorso, esattamente un anno fa, il 16 dicembre del 2022, ci lasciava. Questa persona è Sinisa Mihailovic, questa persona è una persona che ha lottato, con tutte le forze, che ha sfidato ed affrontato una malattia con grande dignità, e che ci ha insegnato tante cose, e che ci ha insegnato soprattutto, che il calcio è di chi lo ama, che il calcio bisogna essere, bisogna che venga vissuto, in maniera serena e tranquilla, e non ammazzandosi come non so che cosa tra di noi, perché noi alla fine non siamo né proprietari delle squadre, e né niente. Noi possiamo far valere i nostri diritti da tifosi, possiamo difendere la nostra squadra, ma finisce lì. Sinisa, il suo percorso mi ha aiutato tanto a capire che veramente la vera vita è un'altra roba, e non solo il suo percorso, ma anche un altro percorso che sto vivendo purtroppo adesso, in questo momento della mia vita, non io personalmente ovviamente, ma per quel che riguarda una persona a me cara, caro Sinisa, io posso dirti soltanto grazie, grazie per tutto quello che hai fatto, e grazie perché secondo me non hai perso tu in questa battaglia, perché se una persona viene ricordata ancora con tanto amore, con tanta bellezza, e con tanto coraggio, quello che tu stesso hai avuto, anche dopo la morte, quella persona ha vinto, e penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro, e ovunque tu sia, Sinisa, tira la bomba, ma la bomba che colpisce il cuore, e lo riempie d'amore, e di fratellanza l'uno verso l'altro, cosa che dovremmo fare tutti. Vi abbraccio forte, come se fossi lì, e ricordatevi sempre che la vostra luce vi vuole bene, è sempre, sempre, forse la bella gente, e forse i tifosi, quelli veri, e onesti, leali e puliti. Buona giornata a tutti.